finalmente siamo riusciti a dare una gioia a tutti quelli che odiano l'inter abbiamo accontentato noi fino adesso adesso accontentiamo anche gli altri scherzi a parte mi scoccio aver perso certo iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella mettete un like che mi fa solo piacere e commentate dita la vostra ce n'è da commentare qui ce n'è ce n'è ce n'è io ho un parere mio personale ma che non so se è condivisibile condivisibile pardon ditemi quello che che pensate adesso ve lo dico allora ieri sera l'inter ha fatto un po schifo non è non è stata decisamente la solita inter e tutti quanti in tanti si sono arrabbiati ma arrabbiati di brutto ho visto e sentito commenti di tutti i tipi gente imbestialita posso dirvi una roba a me questa cosa mi ha ricordato un po perdonate la citazione biblica perdonate la citazione biblica mi ha ricordato un po l'arrivo di gesù a gerusalemme fate fate il parallelo l'inter vince il campionato e la seconda stella nel derby e gesù arriva a gerusalemme festa grande osanna osanna di qua osanna di là palme tutti quanti che festeggiano perfino le le pietre canterebbero se smettessero di cantare i miei seguaci dice gesù qualcosa del genere e qui è tutti quanti parallelo noi che festeggiamo ed esultiamo per l'inter e vai grande gioia siamo entrati nella storia di qua e di là quattro giorni dopo a gerusalemme vogliono gesù in croce e ce lo mettono e mettono gesù in croce qualche giorno dopo sempre seguendo il parallelo l'inter perde una partita giocando male a lei tutti in croce ragazzi un minimo di moderazione ok abbiamo perso col sassuolo che non abbiamo potuto perpetrare la nostra diciamo giusta vendetta per quanto riguarda due anni fa ieri mi ero dimenticato di quella cosa di due anni fa quando dicevo che non capivo per quale motivo ci fosse motivo di astio contro il sassuolo adesso poi me l'hanno fatto ricordare allora mi sono ricordato ok non siamo riusciti a perpetrare la nostra vendetta ma i giocatori erano scarichi stanchi per i lunghi grandiosi festeggiamenti e sono arrivati in campo un po così cosa che non è non è accettabile giustamente molti si sono indignati giustamente perché non è accettabile ma forse forse vi è sfuggito un particolare no non vi è sfuggito perché tutti quanti l'hanno notato quindi non capisco per quale motivo sorprendersi tanto se poi abbiamo perso cioè in campo c'erano le seconde linee non c'erano i titolari ieri ero avevo esternato la mia gioia di di sapere di nello scoprire che sarebbero stati messi sarebbe stato fatto il turnover e sarebbero andati in campo dal primo aslani frattesi e l'altro non mi viene in mente beh non mi viene in mente insomma qualcuno non mi aspettavo certo che cambiasse tutta la squadra quello no e in effetti probabilmente è una mia supposizione poi voi mi direte quello che quello che ne pensate io penso che in zaghi che non è che adesso da 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 grande genio del calcio del 352 è diventato un brocco nel giro di qualche giorno in zaghi ha fatto le sue valutazioni probabilmente ha voluto vedere che cosa succedeva se faceva giocare le seconde linee voleva delle come si dice delle delle indicazioni ecco voleva delle indicazioni e le ha avute e quali sono queste indicazioni le indicazioni sono non credo che i giocatori fossero stanchi perché non giocano mai quelli che giocavano non giocavano mai a buchanan ecco buchanan era quell'altro ero contento di vedere buchanan però poi dopo è arrivato dopo vabbè lasciamo perdere e insomma in zaghi cercava delle indicazioni e le ha avute le indicazioni sono state quello che io pensavo e ho anche esternato nel video di ieri mica tanto tempo fa che l'inter non ha due squadre i non titolari le seconde linee o riserve chiamateli come vi pare non sono all'altezza dei titolari non lo sono l'abbiamo visto ieri perché non erano stanchi i festeggiamenti finché si vuole però non erano stanchi non possono essere stanchi se non giocano mai giusto e quindi loro perché c'era stato questo ragazzo che era stato intervistato da filippo tramontana che aveva detto che secondo lui l'inter avrebbe dovuto risparmiare le forze dei dei titolari per la champions in modo che perché tanto poi il campionato anche le seconde linee l'avrebbero vinto tranquillamente io avevo esternato i miei dubbi al riguardo e infatti ieri sera l'abbiamo visto e le seconde linee non sono assolutamente all'altezza delle prime linee quindi sì certo c'è rimasto questa cosa del per quale motivo poi alla fine in zaghi non abbia voluto far giocare turam e chalanoglu ma probabilmente perché ha voluto portare fino in fondo questa sua ricerca di indicazioni voler vedere fino in fondo o forse pensava che rendessero meglio questi giocatori che fossero migliori ma neanche lui si era sbagliato infatti non li faceva quasi mai giocare perché perché non sono all'altezza frattesi è un ottimo rimpiazzo voglio dire se lui entra dal primo minuto se invece entra a partita in corso vuoi anche per la stanchezza degli avversari non lo so non lo so lui funziona benissimo entra fa gol entra fa gol entra fa gol ma se se subentra bene se invece parte dall'inizio e non mi finisce non mi non 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 mi completa ecco diciamo così poi poi le indicazioni altre indicazioni sono riguardanti sono riguardanti aslani classe arnauto vici e tanti altri diciamo dumfries 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 mamma mia ma tu sei dumfries come fai a farti portare via la palla in quel modo tu sei dumfries comunque le indicazioni sono probabilmente completamento di queste indicazioni sono adesso so chi di chi può fare a meno l'inter è una mia idea è una mia supposizione adesso so di chi può far meno l'inter magari invece di dar via turan per fare cassa diamo via tutti questi qua via classe via arnautovic via sanchez via aslani l'ho detto rosani l'ho detto rosani l'ho detto rosani l'ho detto slani teniamo buchanan e io terrei anche 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 il lungo degente quadrado terrei anche lui diamo via queste persone dumfries via fuori via dunfries l'ho detto non mi ricordo diamo via questi qua invece di dar via un turam e soprattutto prendiamo qualcuno al loro posto che sappia fare gol, un bomber, Taremi, speriamo, vediamo, speriamo, Gudmundson non l'abbiamo ancora preso, quindi non posso dire che Gudmundson va bene perché non l'abbiamo ancora preso, non si sa, ma serve uno che sappia fare gol, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo Thuram e abbiamo Lautaro, entrambi si immaginano gol a profusione. Thuram all'inizio della stagione faceva sfracelli, poi ha smesso. Lautaro, come sempre, ha quei due o tre mesi in cui non fa gol neanche a porta vuota, letteralmente non fa gol neanche a porta vuota, e quindi praticamente un bomber è uno che fa esattamente il contrario di quello che fa Lautaro, e cioè Lautaro per fare un gol deve tirare cinque o sei volte in porta. Un bomber su cinque o sei volte che tira in porta ne sbaglia uno, è esattamente il contrario. Quindi a noi serve qualcuno così, perché, come ha detto Vieri tempo fa, se io oggi giocassi in un inter del genere, con un centrocampo del genere, io sarei il capocannoniere tutti gli anni. E lo dice Vieri, non lo dico io, che anche lui ne sbagliava di gol, ma non così tanti. No, per fare un gol Lautaro deve tirare cinque o sei volte in porta. Questo non va bene, perché non è una prima punta, non lo è, non lo è mai stato. È uno che magari ti fa dei gol strepitosi, meravigliosi, incredibili, difficilissimi, e poi ti sbaglia il gol a porta vuota. E per quanto riguarda l'altra cosa, che molti interisti, perché gli altri, gli anti-interisti, li lascio dire, tanto chissà cosa hanno detto, non sono neanche andato a controllare, guarderò forse, guarderò cosa dicono. Ma per quanto riguarda l'altra cosa che hanno detto gli interisti, e cioè, bisogna onorare il campionato, bisogna onorare gli avversari, e adesso andatelo a dire al Frosinone, all'Udinese e al Verona che l'Inter si è comportata così, anche l'Udinese, il Frosinone e il Verona pretenderanno che l'Inter giochi così, con le seconde linee, come ha fatto ieri sera col Sassuolo. L'Inter non è che si deve preoccupare delle altre squadre, non è la balia delle altre squadre, non è la dispensatrice di punti dell'altra squadra, l'Inter si fa gli affari suoi, si deve fare gli affari suoi. Se Inzaghi ha pensato di fare questi esperimenti, avrà avuto i suoi buoni motivi, che secondo me potrebbero anche essere buoni. Lui vuol sapere com'è la squadra, e ha visto che se è in difficoltà e non riesce a vincere, anzi addirittura perde questa squadra di seconde linee, perde col Sassuolo, vuol dire che questa squadra, che ci sono tanti di cui può fare a meno. Ma comunque, in ogni caso, l'Inter non si deve preoccupare delle altre squadre. Se le altre squadre sono in difficoltà e stanno per andare in Serie B, sono affari loro, è colpa loro, non è colpa dell'Inter. Si sono messe loro in quella situazione. D'altro canto, se poi dopo noi facciamo i favoritismi per queste altre squadre, Frosinone, Udinese e Verona, poi danneggiamo quelli che sono di sopra di loro. L'Inter si deve... E non va bene un'altra volta, va malissimo. L'Inter deve farsi gli affari suoi. Facendosi gli affari suoi, tutto va come deve andare, perché chi si trova in fondo alla classifica, ci si trova per colpa sua, no per colpa dell'Inter. Adesso vogliamo dare la colpa dell'Inter anche di questo? Ragazzi, dai! L'Inter si deve fare gli affari suoi, come è giusto che sia. E Inzaghi, cercando indicazioni, le ha trovate e penso che non abbia finito, è una mia supposizione, penso che non abbia finito di cercare indicazioni, probabilmente ne cercherà delle altre. In ogni caso, ragazzi, il campionato l'abbiamo vinto. L'abbiamo vinto nel derby, abbiamo vinto la seconda stella, ma ve la prendete davvero con l'Inter? Ma lasciate che si divertano. Naturalmente, perdere non è divertente, però lasciateli fare, lasciateli fare. Li abbiamo osannati fino all'altro ieri, no, fino a ieri, fino a ieri sera. Li abbiamo osannati fino a ieri sera. Adesso tutti una volta fanno schifo, si devono vergognare e tutto quanto. Ma state scherzando. Oh, è la nostra squadra, è la nostra squadra, non quella di qualcun altro. Lasciate che godano, gli altri godano della nostra sconfitta. Chi se ne frega? Lasciamo perdere il Frosinone, il Verona e l'Udinese. Chi se ne frega? Sono affari loro se sono in fondo della classifica, non c'entra l'Inter. Dai! Adesso vediamo la prossima partita come va e probabilmente succederà qualcosa del genere. Oppure Inzaghi avrà già avuto tutte le indicazioni che cercava e magari tornerà a giocare. Ma noi ci stiamo facendo gli affari nostri, non dobbiamo farci gli affari dell'Udinese, del Frosinone e del Verona. Loro si arraggiano. Dobbiamo anche far dabali asciutte alle altre squadre, adesso. Ragazzi, ma state scherzando? Veramente. Questo è sport, eh? Nello sport si cerca di vincere. E se l'Inter non ha vinto ieri sera è probabilmente perché sta facendo, sta pianificando, preparando le basi per vincere quest'altro anno. Ragazzi, calma. Calma. Dobbiamo prepararci per vincere quest'altro anno. Ormai quest'anno è finita. Tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. I record, i 100 punti, e i clean sheet, tutte quelle altre cose lì, le partite che abbiamo giocato di seguito, segnando tutte le volte. Chi se ne frega? Ma cosa me ne frega? Abbiamo vinto. Godetti della vittoria. E ci sta anche a essere sconfitti. Già, ok, brucia a perdere proprio col sassuolo perché ci ha aiutato il Milan due anni fa a vincere lo Scudetto. Va bene, si sono scansati. Io non lo so se si siano scansati. Non lo so. Probabilmente sì, visto quella fotografia che ho visto di consigli che rideva. Eh, vabbè, ce l'hanno con l'Inter. Eh, allora? Benvenuti nel club. Sai quanti ce ne sono? Benvenuti in quel club, non nel nostro club. Benvenuti in quel club. Chi se ne frega? Lascia che facciano. L'Inter deve prepararsi per quest'altro anno. E se Inzaghi ritiene che fare questo che ha fatto ieri sera è un'ottima idea per prepararsi per quest'altro anno, benvenga, benfaccia, lasciatelo fare. Sappiamo, sappiamo che lui ne capisce di calcio più di noi. Lui ne capisce più di noi, ragazzi. Lasciamo fare a lui. Se non abbiamo più fiducia in lui dopo questa cosa qui, ragazzi, cosa deve fare il poveraccio? Se già è finita la fiducia. Eh? Mi sembra un po' esagerato. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per le notifiche, mettete un like, spero, spero. E comunque lasciate un commento, sempre educatamente. Dite la vostra. Dite la vostra. Però senza insulti, eh? Ok? So che il momento favorisce il nervosismo, abbiamo dei bruciori da sfogare, però è una sconfitta. Due sconfitte in un campionato ci possono stare. Vabbè, sono tutte e due col sassuolo. Eh, vabbè, vabbè, dai, pazienza. Pazienza. Adesso è finito il campionato. Va così. Absolute burdel. Su col morale. Su, su, su. Su col morale. Su, su. Ciao.